bella a tutti ragazzi io sono il distruttore 02 e qui siamo in un nuovo video in un nuovo video siamo su minecraft avete capito un luogo un luogo una volta su quella scritta poi invece continuo intanto si mi ricorda dove cacchio vero un villaggio un villaggio l'ho notato adesso un villaggio ragazzi un villaggio tu muori invece tu muori 1.2 quindi andiamo 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 vengono c'è un villaggio voglio vedere cosa trovo ragazzi voglio vedere cosa trovo spingi sono un idiota qui ci andremo poi cacchio è sotto il villaggio è sempre sotto il villaggio ma che è c'è fimo questa bella tu no ok dove è la casa del fornaio deve esserci ma che cazzo avete ecco dentro da lì poi faccio dove è la casa del fornaio dove è la casa del fornaio devo trovarla dov'è 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 la casa del fornaio dov'è dov'è mi sto che cazzo ma che avete fatto avete allagato tutto benissimo che cazzo cazzo ha allagato tutto il villaggio però va bene non c'è una casa del fornoio no no è impossibile è impossibile ragazzi non può oh la lava la la ma che è ma che villaggio però non c'è la casa del fornoio è impossibile solo quelle di sabio non ci sono questa non è però figata beh no è impossibile questa non è ma lo so come fa però sono grandi questa non è ma ho avuto dubbi ma c'è ancora un'altra cosa poi non controllate tutti ragazzi non c'è una casa di fornare io 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 non c'è questi sono le tre torri ragazzi non c'è proprio è quello no cosa abbiamo bisogno questa no questa non è ma qual è non è possibile che non c'è ragazzi io sto poi guarderò a due ok ragazzi ho scoperto che non c'è o me lo o me lo scrivete nei commenti perché non c'è ragazzi io andiamo in una casa qualsiasi qui e scarichiamo tutto e poi andiamo in camera allora mettiamo la masca qui mettiamo tu anche si scarichiamo qui qui poi farò qualcosa tanto il tunnel, metodo di carote, soni, metodo di carne, limo, tutto, cana di pesca, e poi questo no forse questo questo no signor questo no però ricordiamo che siamo un livello normale cazzo allora volete fare una cosa volete fare una cosa ho dato una cosa inoltre si senti questo no no solo anche il contrario guard allora faccio una breve tagliata quindi a due ok ragazzi ho dormito e sono cotto delle b-stick mangio crudo e e andiamo qui le torce trova non me le sono fatte benissimo benissimo ho sentito delle voci giù dove c'è qualcuno che paga ok devo trovare la mia casa eh devo lasciare un segno ora trovo la mia casa cosa è un casino quindi no è questa è questa è questa è questa è questa è questa delle torce è questa è questa è questa quindi quindi non c'è neanche quella porca nella miseria proviamo no 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 non io non lo so io non ce l'ho che accoppio non c'è niente non c'è niente non c'è niente che non ho niente non ho niente 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 ok andiamo a prendere questo lo so so cosa fare stop al video eh ragazzi sennò via a dopo non è bello guardare uno che taglia l'alberi eh quindi a dopo a dopo a dopo a dopo ragazzi ragazzi ho fatto un buco qui dove c'era quella grande che cadeva e c'è subito oddio trota oddio che cacchio e c'è subito oh ferro ferro oh oh mio ferro oh oh quanto ferro 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 ragazzi ragazzi c'è il ferro oh oh senti io pensavo rispettare qualcuno c'è fuori non so dove andare da mannare vabbè basta e concentriamoci beh poco ferro però già qualcosa mi approfondiamoci attenzione 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 una volta ci andiamo qui andiamoci nel settore ne ho preso solo due perchè sono generoso oh possiamo andare in prof ecco ma c'è qualcosa c'è qualcosa c'è qualcosa c'è qualcosa qualcuno interrompo un attimo eh vado ragazzi eh sono andato un po' avanti vabbè tanto abbiamo trovato ferro ferro e carbone ragazzi stiamo stiamo incominciando a avere carbone carbone ragazzi tipo qua ho fatto un po' io per guarda c'è ancora basta troppo carbone guarda c'è un zero c'è un già ventisei guardate qua quanto ferro c'è vabbè sono andato un po' avanti tanto però un po' no su tavolo col dedo il ferro col il carbone ci mi stanno dando tanti vabbè non lo penso non lo penso non lo penso leen Qua c'è il terro, quindi si vedrà qui, no, si vede qua l'estero, mamma mia, ذro che il terro si vede qua l'estero. Oddio, guarda che minuti abbiamo, guarda che minuti siamo, mamma mia, guarda, ok, allora con quello qui, guarda, no, con quello qui il video, dicendo che, no, con quello qui il video, non è massa. Concludo il video dicendo, mamma mia, quanto carbonio c'è, mi sa che il titolo è così, perché non si dice, non si dice, no, non si dice, ragazzi. non so eh cosa era come questa? la voglio raccogli tutta ragazzi mamma mia non finisce mai guarda la che buco però vorrei vedere cose che c'è qua in fondo qua ragazzi qui farà un libro scoprire un momento l'episodio che è che si è qui se ho una madonna grazie nel prossimo episodio mettete pollicione in su e iscrivetevi se non siete iscritti il mio canale iscrivetevi subito e ora bello a tutti ragazzi ciao ciao